Assegnata all'Istituto Comprensivo Martin Luther King, la scuola materna realizzata dall'amministrazione comunale all'interno del complesso edilizio della cittadella, è quanto deciso con delibera di giunta dopo aver preso atto dalla direzione ai lavori pubblici del completamento del primo stralcio dei lavori e della fruibilità della struttura. La scuola potrà funzionare già a partire dall'anno scolastico 2017-2018, anche se come si legge nella delibera di giunta, la cucina e il locale menza non rientrano nello stralcio dei lavori completati. Pertanto non sarà possibile prevedere la preparazione e la consumazione di pasti nei locali scolastici, problema che potrà essere superato con i pasti pronti o preparati in altri centri di refezione. Intanto l'assessore alla scuola, Ilaria Insisa, ha dato mandato alla direzione pubblica istruzione di predisporre gli atti necessari per provvedere all'assegnazione dei locali all'Istituto Martin Luther King, che a fine aprile aveva sollecitato con una nota l'amministrazione comunale per l'assegnazione di nuovi spazi a seguito dell'incremento della popolazione scolastica, con conseguente aumento di classi di scuola dell'infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado. La chiusura della scuola dell'infanzia Urra Casas ha infatti determinato, così come si legge nella nota scritta dalla dirigente scolastica Rosa Cartella, un sovraffollamento del plesso Michele Abbate di Via Leone XIII, con classi strapiene di alunni e carenza di aule per i nuovi iscritti. Un problema che sarà superato con l'assegnazione della scuola della cittadella, la seconda che l'amministrazione comunale concederà dopo la consegna della scuola dei Amicis di Santa Barbara all'Istituto Vittorio Veneto. C'è stata una richiesta specifica da parte della Martin Luther King, della dirigente, motivandola appunto con aumento della popolazione scolastica e poiché sono state rassute e compiute già i lavori del primo stralcio della scuola, abbiamo ritenuto opportuno e prioritario assegnarla alla Martin Luther King, anche per proprio una logistica territoriale di appartenenza alla scuola. Sono un paio di aule naturalmente e questo ci permette di evitare atti vandalici, che nel caso in cui poi gli edifici rimangono chiusi per molto tempo, purtroppo c'è questa eventualità spiacevole, quindi riteniamo opportuno darla immediatamente e assegnarla immediatamente, così come abbiamo fatto con la De Amicis alla Vittorio Veneto, proprio per evitare queste problematiche.